Bella ragazzi e benvenuti in questo video Su venerdì tredici La faccio bene l'invito Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Leggeri e oggi Siamo su venerdì tredici Sempre questo schifo Allora Bene No Non è andata per niente bene Ho provato ad essere jesu sacchetto Non ci sono riuscito Però voglio provare ad essere Il jesu quello che ho sblocato L'altra volta Quando sono arrivato a livello 44 Voglio provarci Così vi faccio vedere anche queste nuove kill Cavolo eh Scusa Finchè non c'è jesu devo tenere quelle vecchie Mi spiace E poi quando lo c'è jesu Mi metterò di nuovo quelle vecchie Vabbè Allora Che abbiamo oggi Abbiamo questi Dist Adipose Adipose Oh Eccolo qua Il mio preferito Savini jesu Se abbiamo ragazzi A 2500 firme Cioè richieste Richieste per mettere i Savini jesu come delle c Mamma mia Io voglio averlo Il Savini jesu Quindi ragazzi Vi dico già Se volete ovviamente Firmare questo Cosa È una cavolata Non dovete fare niente Non dovete spendere soldi Dovete Dovete scrivere su google Savini jesu download Poi cliccare su Dove c'è scritto Tom Savini jesu Vabbè Quello che volete DLC Avviable Che significa Variabile Avviabile Quello che vuoi Comunque è una vostra scelta Io non faccio niente Io ho firmato Alla C'era andato tutto bene Però Comunque Io mi preoccupo Che magari Poi I sviluppatori Sono talmente Scemi Che ti fanno arrivare A 2500 film E poi non mettono Noi si avviciniamo Come decci Vabbè Dai E Non siamo quello Ma porca Oh Ogni volta Che noi Ogni volta Che Che registro Mi deve sempre Comparire un altro jesu Siamo contro Il nostro Vecchio jesu Vi ricordate Che Una volta Avevamo questo Come jesu Bene Siamo contro Di lui Allora Iniziamo bene Allora Come possiamo iniziare Con un coltellino E ho preso anche un kit Ragazzi Bene Lo spray Poi le mappe E poi Finisce Ci vediamo al prossimo video Eh magari Dai Magari Allora Mi sono appena accorto Che qua c'è una macchina Quindi se troviamo La batteria O la tannica O le chiavi Quello che volete Siamo già a buon punto Però Non mi sembra Di vedere Nessuna casa Che abbia il segno Di una tannica O la batteria Però io E' lo stesso Per trovare armi Per trovare qualcosa Nei cassetti Non mi serve Io ragazzi Veramente Prendo sempre cose Orribili Ma va Mi fai trovare cose Che io ho già trovato Bello Bello Devi stare attento Con me Sì Allora ragazzi Bene 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 Quando fa così Con il motore Significa che sta mettendo La batteria Bene Bene Peccato che sto personaggio Però è lento A mettere la batteria E la tannica Io invece Ho preso un personaggio Veloce Ragazzi Ogni tanto Io mi fermo a parlare Perché controllo Il volume Controllo Che il volume Si è a posto Capite Guardo Se è tutto a posto Se si sente bene Mi preoccupo di più Per il microfono Che magari Che magari Vi da fastidio Un leggero rumore Che magari Ogni tanto Potete sentire Non so Che cosa Cavolo Gli è preso Sto microfono Ma vabbè Perché avevo fatto L'aggiornamento Di window Non mi ricordo Qualche file Del mio computer È andato a morire Da quando Ho finito Di fare Quell'aggiornamento Il microfono Non funziona più Come una volta Quindi ragazzi Come ho detto In un mio video Vi dovete abituare Così mi spiace Comunque Iscrivetevi Nei commenti Se vi da fastidio Che io In un episodio Dico Eh microfono Funziona Non funziona Le la Le le La la Lo Capite Vabbè Allora Adesso abbiamo pensato A cose nostre Pensiamo Mandibola Stappata Caro Aiuto Allora Pensiamo Per di più A Jason Polpiere Jason Alt Incendio Voglio trovare Dei nomi Dei nomi Che riescano Che non siano Quelli di Lion Perché Lion E' uno youtuber Che seguo Che non siano Dei nomi Dei 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 Gesù Polpiere Tipo L'ha inventato Lui No Cioè Io vorrei trovare Un nome Per Gesù Polpiere Ma un altro Nome Per dire Polpiere Beh Antincendio Dai Antincendio Perché i Polpiere In effetti Spengono L'incendio Aiutano Le persone Allora Io dirò Il Jason Antincendio O Antipersione No Dai Antincendio Oh Oh No Ti salvo Io Ti curo Non La cura Non La cura Non Riesci A curarla Aspetta Forse Ho capito No Non Ti Ricordo Che coglione Che coglione Non ti devi Corrare tu C'avevi solo un coltellino Nella spalla Ma che cavolo Ma che Ma che Ma dai Ma vai Ma vai Ma vai Ci trovo Guarda Ti sto cercando Un kit Ma non lo trovo Ho trovato Il fucile No 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 Ok Ce l'ha fatta I bracci Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Scusami 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 Sparali Sparali Fa qualcosa Fa qualcosa E il suo lavoro E il suo lavoro Uccidere persone Quanto parla Uccidere persone E lavoro Di tutti i killer Ma brava Ma fai vedere Chi siamo Ma vai Mi viene sempre L'ansia Quando gioco A sto gioco Comunque In questi giorni Ho sempre registrato In effetti Verdi 13 Non so perché Mi ve l'idea Di registrare Sto gioco Di merda Mappe Trovo mappe Solo quello Qualche altro Sprite Per curare La mia amica Che è morta No È morta No Non è morta Vedete Che c'è il segno Di Tommy Jarvis Accanto a Brida Bene Ho sentito nulla Ho sentito nulla Che non mi è piaciuto Vabbè Quando c'è Tommy Jarvis E sei tornato in vita Almeno quello Eccola Eccola Questo ragazzi Forse non ci crederete Ma è la ragazza Che è morta prima Ora è nei panni Di Tommy Jarvis Perché un giocatore Quando è morto Se uno ovviamente Chiama Tommy Jarvis Può essere Tommy Jarvis Se ovviamente Sono morti quasi tutti E ne rimane solo uno Allora È impossibile Capire Chi potrebbe essere Tommy Jarvis E chi no Scusa Comunque La batteria Qua era già messa Quindi non c'è bisogno Mi prendo l'ascia Magari Qualcuno Ma ruba Vai Vai Eh No Qua è tutto È tutto Quattro Allora Allora Chi ha trovato Qualcosa La tannica No È vero La tannica La tannica Ragazzi Non riusciamo a trovarla Non c'è neanche una barca In sta In sta Non c'è neanche una barca In sta Nave Non c'è neanche una barca In questa mappa Quindi come facciamo E dobbiamo trovare Una soluzione Ragazzi Una soluzione No C'è la musica di Jason In questa specifica Che lui è qui Ma che se ne frega Aspetta Non mi servono I walkie talkie Mi confondo sempre Dico walkie talkie Ma si dice walkie talkie Tommy 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 Rompiscatole Di Tommy Jerry Un topolino Che mangia il formaggino E il gesino Che ci rope le statoli Come parli Io parlo Strano Oddio Dio Dio Dai Ma qualcuno C'ha questa tannica Di merda A me non le chiavi Ho capito che le chiavi Adesso non ci avranno nulla Ma che ha trovato le chiavi Poi quando troviamo la tannica Scusa Siamo già Siamo già A un punto Eeeh Vorresti uccidermi Lo so che c'è il coltellino Ma vabbè Eeeh Vorresti Mamma mia Mamma mia Dovevo dire che questo però è uno dei miei gesino preferiti Mi piace molto la sua maschera Aiuto Aiuto Dovevo dire che questo è uno dei miei gesino preferiti Dovevo dire che questo è uno dei miei gesino preferiti Eeeh Eeeh Mi uccide Eeeh Mi scadi a faccia Ragazzi Morto De 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 Sono stato Jason Solo una volta E non voglio che capiti Perché Altri youtuber Sono stati Jason Un miliardo di volte E io non riesco ad esserlo Non ci riesco Mamma Mamma mia Bene Intanto Cosa facciamo Bene No 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 Non lo so Non voglio dire Hello guys Perché se no Poi magari Discuto con me Io non ci capisco Una marcia Una marcia A golf Una marcia A tennis No 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 O forse si Comunque Non so se Comunque Non potete Vedermi Sono in una posizione Dove sembra una femmina Devo mettermi subito Bene Ecco Ora sembra Che io stia facendo yoga Ah davvero Non sapete Se faccio yoga In effetti Non lo faccio Non lo faccio Oh che bello Ragazzi Parliamo solamente Per far passare il tempo Ehm Sì 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 Poi magari Il giocatore Fa uno scherzetto Si disconette La partita E poi Non riusciamo A giocare Sei proprio Nostruzzino Eh gli animatori possono usare una medicina spray per curare le proprie ferite comunque veramente si 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 cioè se non voglio esserlo io perchè se no io ammazzo i sviluppatori di questo gioco e non li sto scherzando sto scherzando se no finisco in prigione quando mi lascio devo spendere 20 miliardi o 20 milioni di euro poi ciao poi me ne vado a casa ci vediamo al prossimo video ragazzi ci vediamo al prossimo video non ce l'ho fatto più non ci riesco ad essere Jason noi ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto lasciate un bel piacere iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ragazzi auguratemi buona fortuna per il prossimo episodio perchè potrei essere Jason ditemelo iscrivetevi nei commenti se è Jason così magari ho potreste bella ragazzi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.